Vocazione, formazione e evangelizzazione sono i tre temi al centro della riflessione del Papa offerta alla plenaria della congregazione per il clero. La vocazione afferma il tesoro non fatto per arricchire ma che Dio mette nel cuore degli uomini che ha scelto per seguirlo. Chi è chiamato non è padrone della sua vocazione ma amministratore di un dono che Dio gli ha affidato per il bene di tutti, anche di chi si è allontanato dalla pratica religiosa o non professa la fede in Cristo. La comunità è custode del tesoro di queste vocazioni e quindi deve accompagnarle con affetto. La formazione, sottolinea il Papa, è la risposta dell'uomo, della Chiesa al dono che Dio le fa tramite le vocazioni che sono un diamante grezzo da lavorare con cura perché brillino in mezzo al popolo. Un'esperienza che avvicina a Cristo e permette di conformarsi sempre più a Lui. La scoperta e la valorizzazione della vocazione hanno come scopo l'evangelizzazione. Il primo passo è infatti la testimonianza di fraternità e di comunione tra i sacerdoti e con il Vescovo, da cui deriva un potente slancio missionario che libera dalla tentazione del consenso degli altri e apre all'annuncio nel mondo. Si tratta, afferma il Papa, di essere preti non limitandosi a fare i preti, liberi da ogni mondanità spirituale, consci che è la loro vita da evangelizzare prima ancora delle loro opere. Sacerdoti gioiosi nella loro vocazione, sereni nell'animo perché fanno esperienza di preghiera. La preghiera del cuore, sottolinea Francesco, quel dialogo con il Signore che è il cuore della vita sacerdotale.